Siamo in questo mondo Siamo in questo mondo Dobbiamo salvare tutti gli amici Ecco, salvato Uno Uno Tutte le perule Tutte le lucre No, di più Voglio che più Che cos'è? Ma non sono quei alberi Sono un alberino a botte Mi scoccio, non tengo Oh Ecco Wow Le mie luccole che volano Non so che questo è quello che non funziona Perché? 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 Questo funzionare io Ah Boom, 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 boom Poi, ci sono i miei Ecco E peace Sono qua E Ciao E Cos'è E Cos'è Non puoi! Ah, grazie albero! papà dico ehi ma che parola visto così punto ma questa parte lo che prefero qui vuoi comino ma già ma sei troppo stupido ma non posso cominciare sempre a qui ciao ma è troppo difficile ok oh 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 mi ha scorgato una carta sono già presi 75 se voletevi al canale lasciate un bel like per astro boss oh 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 C'è un sacroppo intelligente Buongiorno! C'è un pollo! No! Devo tornare indietro! Devo tornare indietro! Mi sono accasso una carta, prickly! Vabbè, quello mio non è prickly! Però tu no! Oh no! Oh no! Hai una piccola terra! Un sacco! 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 Da sempre un granelle! È su casa! Basta! Tu devi andare a bansch! Oddio l'ho attivato Era solo questo il mio momento Era l'unica cosa che io volevo salvare Era solo l'unica gatto eh? hello Grazie a tutti.